Il patrono di Vallo della Lucania e la sua sacra effigie saranno presenti a Castellabate in occasione dei festeggiamenti di San Costabile, fondatore patrono del paese castellano e copatrono della diocesi vallese, che si terranno dal 16 al 18 febbraio. La presenza di San Pantaleone è stata fortemente voluta dalla comunità parrocchiale di Castellabate in occasione del triennio di preparazione del quarantesimo anniversario della nomina di San Costabile come copatrono di Vallo della Lucania. Non è la prima volta che le due comunità condividono le proprie effigie dei santi patroni, infatti il busto di San Costabile fece tappa a Vallo nel 2014 in occasione dei solenni festeggiamenti di San Pantaleone. Il santo di Vallo della Lucania rimarrà a Castellabate fino al 18 febbraio, quando farà ritorno nella cattedrale vallese in seguito alla processione. Il programma completo parte dalle ore 9.30 del 16 febbraio con il prelievo e preparazione della statua del santo patrono da Vallo e poi ore 15 partenza per la Santa Maria di Castellabate. Alle ore 16 ci sarà l'accoglienza in Piazza Matarazzo e processione fino a Piazza Lucia con i saluti del sindaco Costabile Spinelli e partenza per Castellabate. Alle ore 17 l'arrivo al Belvedere e processione verso la Basilica Pontificia Minore Santa Maria di Guglia. Il 17 febbraio alle ore 17 il rosario e la Santa Messa celebrata dal parroco Don Agnello Scavarelli con processione al termine. Il 18 febbraio invece o alle ore 16.30 dopo la Santa Messa ci sarà il saluto a San Pantaleone nell'atrio del Castello dell'Abbate. Alle ore 19 l'arrivo di San Pantaleone in Piazza Vittorio Emanuele e processione fino in cattedrale.